Cioè, perché è meno di zero. Come si fa? Cioè, io come faccio? Ma hai studiato? Hai studiato? Non si può andare avanti così, eh? Secondo te, Nicolás, tu non ci devi rimanere male, Nicolás. Allora, Nicolás, ascoltami. Ma sono quattro mesi, capisci? Nicolás, Nicolás, facciamo una cosa. Non ti darò... Cosso? È umiliante il fatto che lei mi dia tutto lo zero, è incredibile. Per me lei, in questo caso qua... Scusa, adesso mi stai interrompendo tu. Ti voglio dire questa cosa. Ti dico. Non ti darò più compiti, non ti parlerò più, non ti considererò più, e così starai tranquillo. Sei contento? No, credo che lei è abbastanza grande per capire che questo modo che ha di darmi sotto lo zero è controproducente e umiliante. Per me è umiliante. Non è umiliante. Lei mi sta umiliando. Non è umiliante. Lei mi sta umiliando davanti a tutta Italia. È la cruda, è la cruda, è la cruda, è la cruda... Maestra, è lei che ci perde, non sono io. Tecnicamente... La figuraccia la qua lei. Tecnicamente, Nicolás, Mi dispiace zero. Mi dispiace zero.